Trovato in mare a Salerno questa mattina, il cadavere di un uomo a largo dell'approdo del molo Manfredi, poco distante dalla stazione marittima, si tratterebbe di un cittadino straniero, un trentenne di nazionalità magrebina. È stato recuperato da una motovedetta della capitaneria di Porto, mentre era in perlustrazione nelle acque del Porto, in attesa dell'arrivo della nave militare Garibaldi. È stato notato un corpo galleggiare, da qui l'allarme che ha fatto giungere sul posto la polizia di frontiera e gli agenti della squadra mobile della questura di Salerno, diretti dal vicequestore Gianni Di Palma. In banchina anche un'ambulanza della Croce Bianca. Ignote al momento le cause della morte dell'uomo ritrovato senza vita, da capire se sia finito in mare dalla scogliera o caduto da un'imbarcazione o dallo stesso approdo. Gli agenti di polizia non escludono alcuna ipotesi, anche se da un primo esame esterno sul cadavere dell'uomo. Non sarebbero state evidenziate i segni di violenza e la morte non dovrebbe essere sopraggiunta tanto tempo prima. Potrebbe dunque essere l'epilogo di un incidente, ma non è da escludere anche un atto volontario. Dopo l'arrivo del magistrato di turno, la salma del trentenne di nazionalità magrebina è stata trasferita all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno, ancora non chiara l'identità dell'uomo.